Bentornati allo Zochroma ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana, invogliato dal catalogo del Plus, ho deciso di rigiocare una vecchia gloria, il primo Darksiders. Non so se questa sarà una serie, ma ho deciso di parlarvi molto velocemente del titolo per invogliare i nuovi videogiocatori a provarlo, ma anche per qualche nostalgico, visto che personalmente questo titolo ottenne poco successo 12 anni fa, visto che è uscito nel 2010. Sapete quanto mi piace parlare di vecchie glorie? Avrei dedicato a questo titolo un bel memory card, ma non so in quanti lo conoscono. E potrei tranquillamente farlo, perché mi ricordo tantissimo la prima volta che giocai Darksiders. Ma adesso parliamo del titolo. Darksiders è un action-adventure in terza persona con protagonista Guerra, uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, guerrieri scelti dal Consiglio, il cui compito è quello di preservare l'equilibrio tra Inferno e Paradiso. Nel giorno dell'Apocalisse, Inferno e Paradiso, si fanno la guerra proprio sul pianeta Terra, con l'intento di prevalere l'uno sull'altro. Ed è lì che arriva il cavaliere, con una sorpresa però. Scopre di essere l'unico dei quattro ad essere stato evocato. Guerra a questo punto indaga, ma nel caos generale viene sconfitto da Straga, uno degli eletti del distruttore, un'entità potentissima. Guerra viene salvato e portato davanti al Consiglio, dove lo accusano di aver scatenato l'Apocalisse. Il cavaliere, che non accetta di prendersi colpe che non ha, chiede la possibilità di poter tornare sulla Terra per sistemare tutto e indagare. Il Consiglio accetta e la storia ha inizio. Non mi soffermo troppo sulla lore, ma fidatevi che la trama generale, proprio la storia, è fantastica, ragazzi. Accompagnata poi da un comparto artistico e visivo che si amalgama alla perfezione con il level design. Aggiungiamoci poi le colonne sonore che sono qualcosa di fantastico, ma addirittura i suoni di quando guerra combatte, della lama che si infrange sui nemici, sono molto soddisfacenti. Il gameplay ai tempi regalava tantissima varietà. Un sistema di combattimento ottimo, accompagnato da molti oggetti, artefatti e equipaggiamenti utili rendono guerra divertentissimo da giocare. Ah, sì, mi gasa tuttora utilizzare la forma del caos. Oltre alle classiche combo da terra e aeree, comunque possiamo switchare arma durante lo scontro. È possibile addirittura agganciare il nemico, con un sistema che ricorda moltissimo Zelda. Per la precisione mi ricordò tantissimo ai tempi, eh? Twilight Princess. Molti fanno l'errore di definire Darksiders Second Slash, anche se il primo capitolo è più un action-adventure. Darksiders alla fine è da ammettere che è una fusione di molti titoli ben riuscita. Non inventa nulla, ma diverte tantissimo e se la storia prende, sembra quasi un prodotto unico. Il combat system dunque non è l'unica cosa che faremo durante l'avventura. L'esplorazione e i collezionabili regalano qualche ora giuntiva alla trama principale. Inoltre, gli enigmi ambientali sono abbastanza tosti quanto divertenti. Le boss fight non sono nulla di complesso, invece nemmeno quella finale, e ve lo dice uno che il titolo ha terminato a difficoltà apocalittica. Eppure sono maledettamente sceniche. La mia preferita, cosa molto strana visto che amo combattere solitamente in un classico 1v1, facendo più combo possibili, è quella contro lo Stijan. Questo verme gigante, passatemi il termine, che, cavalcando rovina, il cavallo fidato di guerra, viene battuto tramite l'utilizzo di una pistola. Rimane scenicamente e proprio nel complesso una bellissima boss fight. Per me il secondo capitolo di Darksiders, però, è il migliore. Ma ammetto che ho parlato del primo perché, essendo più fresco e avendolo platinato oggi stesso, mi sono sentito stimolato. Qual è invece il vostro Darksiders preferito? Se non li avete mai toccati, vi consiglio di rimediare subito, ragazzi, eh? Grazie per la vostra importantissima visualizzazione.